Finalmente è iniziata la stagione primaverile e per questo già abbiamo avuto un primo assaggio di quelli che saranno gli anime che ci accompagneranno per i prossimi mesi, ma fra quelli iniziati in questi giorni, mi premeva parlarvi di uno in particolare, ovvero Rimonster, anime di genere Isekai tratto da una novel che però ha anche un manga da più di 90 capitoli con degli ottimi disegni e in generale un'ottima lettura nonostante non sia l'opera principale di cui quest'anime è adattamento. Per riprendere il discorso oggi vorrei brevemente parlarvi e provare a convincervi ad iniziare e seguire in simulcast proprio l'adattamento animato di Rimonster che trovate su Crunchyroll. Essendo praticamente appena iniziato, all'uscita di questo video conta solo un episodio quindi non so ancora quanto sarà davvero valido come adattamento e se ne verrà la pena continuarlo, ma anche se fosse bello la metà di quanto è bello il manga, sarebbe già di per sé un ottimo anime. Senza farvi eccessivi spoiler del primo episodio, ma tranquilli è praticamente solo un grande incipit, il protagonista all'inizio viene ucciso da una sua collega di lavoro molto yandere che lo pugnala a morte più volte egli era oramai Kanata Tonuki, un esper combattente con l'abilità di poter divorare qualunque cosa e ottenerne le abilità. Essendo un Isekai, penso saprete bene dove andremo a parare adesso esatto, viene Isekaiizzato in un altro mondo ma non in condizioni ottimali, infatti si sveglia come un neonato di Goblin ed ottiene un nuovo nome, da cui infatti lo conosceremo meglio come Goburo. Avendo una vita breve, i Goblin si sviluppano in tempi estremamente ristretti, infatti già il giorno dopo la sua nascita sembra un liceale circa. Essendo in verità un uomo adulto sa benissimo come cacciare e combattere, infatti nonostante non sia fisicamente il più forte tra i nuovi Goblin nati da poco, in pochissimo si adatta e trova dei compagni, in particolare Gobumi e Gobukichi. Una delle cose che più mi piace di questo Isekai è questo setting che presenta tutto come fosse un videogioco, con la possibilità di evolversi una volta raggiunto il livello massimo e qualche altra cosa che preferirei non anticiparvi. Parlando delle evoluzioni ne abbiamo un esempio proprio con Goburo e Gobukichi, che diventano Hobgoblin in una notte tramite la scelta di evolversi o meno una volta raggiunto il centesimo livello. Una volta evoluto in razza superiore ci viene fatto capire anche che si ottiene un aumento delle capacità e delle caratteristiche fisiche. Lo vedremo probabilmente meglio più avanti, ma comunque Rimonster non è solo questo, per la maggior parte sì ma non del tutto. Infatti col passare degli episodi conosceremo sempre personaggi nuovi che spero verranno approfonditi il giusto, si darà un minimo di caratterizzazione in più anche al cast principale e si spera si racconti in generale una storia ben scritta. Questo primo episodio mi è piaciuto alquanto, è sicuramente una perfetta prima parte del prologo che spero verrà completato entro la fine del prossimo episodio e sono sicuro che chi apprezza gli isekai di questo tipo lo adorerà. Fatemi ovviamente sapere se voi lo avete già iniziato o vi ho convinto a dargli almeno una possibilità perché ci terrei a sapere anche la vostra opinione e non dimenticate come sempre di iscrivervi nel caso non lo siate per non perdervi i prossimi video che usciranno e niente penso che abbiamo finito, noi come sempre ci sentiamo, alla prossima.